Non dà la colpa a lei, non dà la colpa a lei. C'è un acquisto del Milan, è vero? Ciro, vai che siamo in chiusura. Un acquisto inatteso perché tutti pensavamo al difensore, il Milan invece ha comprato un giovane attaccante con Pellegri che tornerà al Monaco e il Monaco poi lo darà al Torino. Ha acquistato Marco Lazetic, classe 2004, 3 milioni alla Stella Rossa, contratto da firmare nelle prossime ore fino al 30 giugno 2027. Grazie Ciro, ottimo lavoro come al solito, ci sarà una grandissima edizione dell'altra domenica sportiva con notizie belle e meno belle per i colori azzurri. Tommaso Macarozzi a te.